Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Mi fa così strano in effetti essere qui oggi dopo tipo due mesi e mezzo credo ormai che ho interrotto la mia attività qui su YouTube e quindi ovviamente ragazzi è un pochettino strano. Non è la prima volta che faccio un video simile a questo perché non è la prima volta nella storia del mio canale che magari sparisco per un periodo e poi torno insomma in attività. Quindi non mi fa strano per quello perché non è la prima volta ma è comunque strano ragazzi a prescindere perché tornare a fare una cosa che facevi abitualmente prima magari di vivere un certo periodo negativo della tua vita e quindi ritornare a un'attività che facevi con abitudine ovviamente crea sempre una sensazione un pochettino strana. Vabbè in ogni caso non siete qui e non sono qui per dirvi quanto sia strano tornare a fare video ovviamente lo immaginerete anche voi. E quindi ben rivisti ragazzi quest'oggi voglio un attimino spiegarvi senza però annoiarvi troppo che cosa è successo perché sono effettivamente sparita da più di due mesi ormai quasi due mesi e mezzo perché sentivo ragazzi sento comunque di dovervi delle spiegazioni perché so che ci sono c'erano perlomeno non so se ci saranno ancora diversi di voi che ovviamente mi seguivano assiduamente seguivano assiduamente le mie serie perché era su quelle che mi stavo concentrando principalmente e quindi vedermi sparire così da un giorno all'altro magari è stato un attimino what? Giocheri ma che è successo? Ma che stai a fare? Insomma no? Quindi è stato un attimino destabilizzante anche perché comunque ero solita pubblicare ragazzi quasi quotidianamente no? tranne il fine settimana pubblicavo più o meno quasi tutti i giorni quindi c'è stato un cambio davvero radicale perché cioè sono passata a pubblicare tutti i giorni a non pubblicare praticamente più. Quindi intanto volevo comunque chiedervi scusa per questa cosa qui so che magari diversi di voi diranno no ma non ti devi scusare perché pipim popom però ragazzi io mi sento comunque di chiedervi scusa per essere letteralmente sparita così improvvisamente poi vi avevo lasciato un post nella sezione community tipo un mesetto fa più o meno verso giugno credo e su instagram dove vi dicevo che ho bisogno di un periodo di pausa però vi chiedo scusa per non avervi avvisato ho aggiornato in alcun modo chiedo scusa a quelli che stavano seguendo comunque la serie su God of War Ragnarok perché principalmente ho interrotto quella ragazzi perché avevo fatto in tempo a finire Ghost of Tsushima avevo pubblicato il primo episodio su Hellblade 2 quindi cioè principalmente quella che era in corso era God of War Ragnarok che tra l'altro stavate apprezzando moltissimo e quindi mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto ovviamente io ci tengo anche a ringraziare chiunque comunque si sia un minimo preoccupato perché ci sono stati diversi di voi che dopo un po' di tempo ragazzi sono venuti magari a scrivere nei commenti o comunque a scrivermi su instagram per sapere se fosse tutto a posto quindi io ringrazio di cuore veramente chiunque abbia dimostrato comunque un minimo di interessamento di preoccupazione nei miei confronti siete stati veramente molto molto carini quindi grazie davvero di cuore per questo e comunque per chiunque ragazzi come sempre ci sarà nonostante tutto nonostante questa lunga pausa deciderà magari di continuare a seguirmi sostenermi appoggiarmi in qualche modo quindi vi ringrazio già in anticipo per questo e magari per quei commenti che lascerete se ne lascerete ovviamente di comprensione e di supporto quindi grazie anche in anticipo per questo ragazzi quindi arrivando al succo del discorso che cosa è successo in questo periodo purtroppo ragazzi a metà maggio è tornata una vecchia conoscenza che non pensavo sinceramente sarebbe più tornata a trovarmi speravo anzi anche ovviamente non sarebbe più tornata a trovarmi stiamo parlando dell'ansia ragazzi questo è un argomento che avevo affrontato in un vlog diversi anni fa vi avevo parlato del fatto di aver sofferto tanti anni fa di ansia e depressione due aspetti della mia vita che appunto pensavo e speravo fossero risolti però ovviamente ragazzi queste cose c'è magari a volte si addormentano soltanto e poi non lo so può succedere qualcosa nel corso della vita che può riportarle a galla ok quindi purtroppo il motivo per cui poi sono sparita ragazzi è che appunto da metà maggio ho ricominciato a soffrire di ansia barra depressione il colpo potete immaginare è stato veramente duro perché appunto è una cosa che mai mi sarei aspettata nella vita di dover rivivere sinceramente e immaginerete che non è facile perché erano veramente tanti anni ragazzi che stavo bene tra virgolette poi è chiaro che tutti quanti abbiamo i nostri periodi no abbiamo periodi che sono un po' più neri un po' più negativi ho avuto insomma un periodo brutto quando è mancato mio padre ovviamente due anni fa più altri periodi che non sono stati positivi però non era mai tornata a farsi sentire ragazzi l'ansia accompagnata ovviamente anche dalla depressione quello che so è che purtroppo chi ne ha sofferto ragazzi è probabile che torni a soffrirne a meno che non prova a cercare delle soluzioni e quindi come vi dicevo immaginerete ragazzi che questa cosa mi ha colpito parecchio duramente più che altro perché è stato completamente inaspettato appunto quindi il colpo iniziale è stato veramente duro ovviamente ragazzi il periodo che ha seguito il colpo iniziale è stato altrettanto duro al punto che questa volta ho deciso praticamente quasi da subito io penso sì dopo una decina di giorni ragazzi che questa condizione è tornata e vedevo che non passava quindi che non riuscivo ad avere strumenti per gestirle eccetera eccetera quindi davvero quasi subito ho deciso quindi preso questa importante decisione ragazzi di andare in terapia lo dico appunto senza vergogna anche perché non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi tante persone vanno in terapia per i motivi più disparati uno di questi motivi può essere appunto ragazzi il disturbo d'ansia e come può esserlo ovviamente anche la depressione quindi siccome mi sono resa conto ragazzi che evidentemente c'è qualcosa dentro di me che non sono riuscita a risolvere davvero perché uno dice ma tanti anni fa ne è riuscita come è possibile perché come avevo raccontato nel video in cui vi parlavo di questa cosa qui ragazzi io ero riuscita ad uscire dall'ansia e dalla depressione in quel caso senza alcun tipo di aiuto né dell'aiuto di un terapista né dell'aiuto di farmaci o robe del genere e quindi la domanda sorge spontanea sorge spontanea anche a me ragazzi come è possibile che ci sei riuscita una prima volta non ci sei riuscita questa volta giusto? ragazzi però non si è mai la stessa persona comunque da quando ho avuto i primi episodi quindi parliamo di più di dieci anni fa ragazzi comunque sono passati dieci anni più di dieci anni quindi nel frattempo comunque il mio vissuto è aumentato sono passati tanti anni quindi tanti anni di esperienze tanti anni di situazioni tanti anni di magari cose negative che si accumulano eccetera 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 e quindi evidentemente la me di adesso da sola non riesce a gestire a risolvere questa problematica perché evidentemente appunto già da prima ma magari con questo vissuto che si è accumulato in questi ultimi dieci anni ragazzi c'è qualcosa dentro di me che probabilmente ha riscatenato queste reazioni ok qualcosa che evidentemente non sono riuscita a elaborare che magari ho solo accantonato e che quindi deve essere risolto e quando ragazzi ci si rende conto di non essere in grado di non avere gli strumenti per poter fare certe cose secondo me è giusto il sacrosanto che ci si rivolga a uno specialista e questo ve l'avevo detto anche nell'altro video nonostante io non ne avessi avuto bisogno la prima volta avevo detto in ogni caso se notate di non riuscire da soli è giusto il sacrosanto rivolgersi a uno specialista quindi è da più o meno fine maggio ragazzi che ho iniziato il mio percorso di terapia con una terapeuta è una psicoterapeuta io adesso non so quale sia la differenza fra psicologo e psicoterapeuta però a quanto avevo capito per disturbi simili è bene andare da uno psicoterapeuta anche se vi ripeto non so quale sia la differenza non so se qualcuno di voi la conosce lo psichiatra è un'altra cosa ancora quindi se qualcuno di voi sa la differenza magari può spiegarla qua sotto nei commenti comunque quindi è da fine maggio che sto andando appunto in terapia è ancora presto ovviamente per poter trarre c'è Robin qui nello studio che giustamente stava dormendo in santa pace e adesso mi dice tu sei venuta qua mi sei venuta a rompere le scatole ti prego fammi uscire giustamente no? come vi stavo dicendo ragazzi è presto per poter dire qualsiasi cosa io credo che comunque perché ci sono tante persone che magari credono che la terapia non serve a niente che tanto vale parlare con un amico che tanto parlare non serve a niente che tanto lo psicologo, psicoterapeuta che cosa ti può dire per aiutarti io credo che tutte queste considerazioni siano sbagliate ragazzi perché è vero io vi dicevo un attimo fa è presto per poter trarre qualche conclusione e dire se questa terapia mi sta aiutando davvero a risolvere i miei problemi o no perché queste ragazzi purtroppo sono cose che richiedono tempo ovviamente sto cercando di farmi una ragione di questa cosa qua e quindi magari fra qualche mese potrei anche raccontarvi la mia esperienza per quanto riguarda la terapia però come vi dicevo credo che tutte queste considerazioni siano sbagliate la terapia serve bisogna trovare evidentemente il terapeuta giusto io penso, spero di aver trovato a primo colpo la terapeuta giusta ma non è vero che non serve perché ragazzi questi sono esperti studiano per questo studiano per aiutare le persone appunto a risolvere e elaborare i propri problemi i propri traumi quindi sanno come approcciarsi a voi perché cercano di inquadrarvi, di capirvi imparano a prendervi se magari c'è un giorno sì, un giorno no cioè studiano per questo ragazzi quindi io una cosa che ho notato ovviamente con la mia terapeuta sanno quello che fanno ovviamente ci stanno magari anche gli incapaci come in qualsiasi mestiere per carità di Dio però sanno cosa fare e sanno quali strumenti utilizzare per potervi aiutare e nonostante appunto sia presto per me per dirvi mi sta aiutando o meno io comunque qualcosina lo sto notando ragazzi sto notando tante piccole cose che piano piano secondo me a lungo andare sicuramente mi aiuteranno e mi daranno una mano quindi sicuramente a lungo andare sarò grata di aver deciso di fare questo percorso perché quando si è fragili non bisogna vergognarsi ragazzi di ammettere di essere fragili non bisogna vergognarsi di ammettere di aver bisogno di un aiuto che deve essere esterno ragazzi deve essere esterno perché parlare con la propria madre il proprio padre, il proprio compagno la propria sorella, il proprio fratello, il proprio amico non è la stessa cosa anche perché quelle persone sono comunque coinvolte e quelle persone comunque non sanno cioè fino in fondo cosa davvero può darvi una mano a farvi scattare qualcosa nella testa mentre un terapeuta sì per questo che serve qualcuno di esterno e serve un ambiente esterno dove poter parlare di tante cose di certe cose di sé potersi aprire e mettersi completamente a nudo perché è una persona comunque che non vi conosce ma che imparerà a conoscervi ovviamente ma che non ha pregiudizi e non è condizionata in alcun modo da quello che raccontate quindi potete tranquillamente raccontare tutto ragazzi nel senso sono tante cose magari che non vengono mai dette perché ci si vergogna o tante cose invece quello è un ambiente veramente dove ci si può mettere a nudo già questa è una cosa fondamentale ovviamente non per tutti è facile ovviamente aprirsi però è importante quindi ci tenevo a fare questo video per dirvi questo che essermi ritrovata in questa mia condizione mi ha portato a prendere questa decisione credo che mi aiuterà a lungo andare e probabilmente ragazzi avevo detto che non avrei voluto annoiarvi all'inizio di questo video però veramente volevo farvi capire che questa condizione si è ripresentata volevo farvi capire quindi perché ho smesso di fare video volevo farvi capire che ci ho provato ragazzi fino all'ultimo perché io ho fatto video verso fino a fine maggio più o meno e già in quegli ultimi video ragazzi non stavo bene però ho cercato di sforzarmi fino all'ultimo ci ho provato ma poi mi sono detta ragazzi che avevo bisogno di un attimo per fermarmi per ritrovarmi diciamo così è una cosa che ovviamente richiederà tempo quindi sono qui oggi ragazzi per dirvi che non voglio farvi promesse però se appunto come oggi mi sono sentita di voler fare questo video e quindi dovessi cominciare davvero a sentirmi meglio anche se piano piano nel corso dei giorni probabilmente anche fare video potrebbe aiutarmi a risollevarmi da questa situazione quindi non vi dico domani o la settimana prossima in ogni caso ragazzi se volete sempre aggiornamenti mi raccomando seguitemi sia su instagram che sul canale telegram attivate la campanellina sia lì che qui sul canale e andate anche magari a dare uno sguardo alla sezione community ogni tanto perché vi dirò sinceramente ragazzi cos'è che mi ha spinto stamattina a fare questo video ho riaperto il mio canale per la prima volta dopo un po' di tempo e ho notato che comunque appunto gli ultimi video ragazzi c'è stavano andando bene nel senso la serie comunque su God of War Ragnarok ho notato che la stavate seguendo perché comunque è un gran gioco vi dirò mi è venuto un senso di dispiacere perché comunque questa è stata un'attività che ho sempre portato nel cuore che non ho mai voluto abbandonare davvero perché sono sempre tornata ragazzi perché è una cosa che comunque mi ha sempre fatto bene in un modo o nell'altro e quindi mi sono detta che non la voglio non la voglio mollare non la voglio abbandonare quindi ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni vi dico già da adesso ragazzi che non so se continuerò la serie su Hellblade 2 perché comunque è un gioco che parla ragazzi anche appunto di disagio mentale è comunque un gioco abbastanza pesante e quindi per la condizione in cui sono attualmente non credo di riuscire a reggerlo tra virgolette e quindi la serie su Hellblade credo che la interromperò qui mi dispiace so che comunque è un gioco e ci tenevo a giocare ma magari lo riprenderò o lo ricomincerò perché tanto avevo fatto solo un episodio non appena mi sentirò in grado di farlo quindi mi sentirò in grado di affrontarlo ecco diciamo così la serie su God of War Ragnarok riprenderà penso di sì ragazzi penso di sì quindi riprenderemo la serie su God of War Ragnarok per chiunque quei pochi che ovviamente vorranno riprendere a seguirla non vi prometto che pubblicherò tutti i giorni quindi è una cosa che voglio fare gradualmente ragazzi nel frattempo piano 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 magari ricominciamo a ingranare anche qua su YouTube e ringrazio veramente di cuore tutti quelli che come sempre mi dicono non ti preoccupare Joe saremo qui quando tornerai quindi io vi ringrazio veramente di cuore da adesso ringrazio chiunque lascerà un commento qua sotto chiunque avrà comprensione chiunque deciderà di essere qui nonostante tutto dopo tutto questo tempo mi dispiace perché come sempre penso di fare video un po' più brevi e alla fine me ne esco sempre con video che durano quasi 20 minuti quindi che dire ragazzi ci aggiorniamo sui social mi raccomando grazie di nuovo veramente di cuore a tutti spero ragazzi davvero di tornare più forte di prima io do un abbraccione un bacione a tutti voi e soprattutto chi magari appunto sta affrontando periodi un pochettino più difficili tipo quello che sto vivendo io non smettete mai ragazzi di credere nella vita perché la vita è una cosa importante e quindi sempre avanti tutta ragazzi e risorgiamo sempre come l'araba fenice dalle nostre ceneri più forti e più vivi che mai vi voglio bene ragazzi un bacione grazie a tutti